ciao ciao amici ben ritrovati nel canale oggi ci gattiamo tre biglietti da tre due mamma non mamma è un numero fortunato allora cominciamo da numeri fortunati che richiesto da cristina paesani ciao cristina e comunque non mi ha chiesto il numero questo comunque è serie 31 numero 20 più ok chiamiamo un po vediamo ok allora buona visione a tutti passiamo la nostra carta primo numero 50 che non c'è segue 35 eccolo abbiamo 12 eccolo qua 56 eccolo 42 ultima colonna 15 non c'è 77 e 27 77 non c'è 27 neanche abbiamo il 37 53 eccolo abbiamo il 20 eccolo 65 eccolo qua 73 a bene abbiamo visto una colonnina 21 eccolo 46 non c'è 51 neanche e sento 78 c'è ma non c'è questo amico ok cara cristina abbiamo preso un numero vediamo quello che ci regala 3 euro ok questo bigliettino comunque non è perdente ok meglio di niente ok passiamo a mamma non mamma di niente ak ieri daин l' 112кую daSiri 97 numero 14 e comunque questi non ho una richiesta in particolare lo dedico a tutti a quelli che appreste il mamma non mama ok allora vediamo pennello bonus prima petalo cuore farfalla, cuore, cuffie, cuore, matita, scarpa, pace, pantaloni, chitarra, smile, disco, cuore, e niente. E niente, niente, proprio non capisco io che sia divinita così la cosa, non faccio più niente con questi biglietti, 1, 2, 3, 4, no, sono 4, il pennello non c'è perché abbiamo la matita, e niente cari amici, questo biglietto non è vincente. Ecco, passiamo al nostro ultimo biglietto di oggi, che è sempre mamma non mamma, ma questo è l'inizio di un pacco, del pacco 90, vediamo un po', il primo biglietto, con il numero 000, ok, vediamo un po', bonus, sole, ok. Primo biglietto, lo roulotte, cuore, televisione, smile, chitarra, pennello, pantaloni, cuore, 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 siamo a 4, vediamo un po', se ce ne da un altro, ok, siamo a 5 cuori, ah, 6 cuori, meno male, 6 cuori, il sole non c'è, però 6 cuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, Allora abbiamo fatto 5 euro, meno male, l'abbiamo ripreso, l'abbiamo vinto 2 euro, che vincitona, va bene, comunque ci accontentiamo, meglio di niente, diciamo così. Allora, qui abbiamo, allora, 3 biglietti, 2 mamma non mamma, e il numero fortunato abbiamo preso 3 euro, e al mamma non mamma abbiamo preso 5, 5, 3, 8, allora, chiudiamo il video oggi con 8 euro di recupero, ok, abbiamo speso 9 e prendiamo 8, e va bene, abbiamo preso 1 euro, pazienza, pazienza, e sarà per la prossima volta, ok, cari amici, grazie per la visione, buona giornata, buona serata a tutti, secondo quanto guardate il video, al prossimo video, vi saluto, vi abbraccio, vi bacio a tutti, ciao a tutti. Ecco amici, volevo ancora mostrarvi un'immagine, qualche impressione del mio giardino oggi. Allora, questa è la mia casetta in legno, qui faccio le registrazioni, la mia sala registrazione, e niente, qualche fiore che adesso, che purtroppo ancora sono chiusi, e si devono aprire, si apriranno ancora di più, perché adesso è presto, e ancora questi con il sole, questi sono i suori di carta, sono, che adesso sono ancora chiusi, però poi a mano che aumenta il sole, e si aprono, si aprono sempre di più, diventano bellissimi, sono anche belli così, però, quando si aprono sono ancora più belli. Molli, la molla mi saluta, ok, guardate che ci sono i lavori in corso, qui da me, dobbiamo rifare il giardino, il pavimento, e ci sono un po' di casino, comunque non mi importa tanto, a me ci porta più dei fiori, volevo, mostravo un po' il mio giardino, volevo, e niente, e comunque io ho la casa da 45 anni, e sempre, ci sono sempre lavori da fare, sempre, e sempre lavori, devo cambiare il cancello, devo rifare il muro, e poi sto in fase, in fase di costruzione, e niente, e poi l'allina, l'inverno, non fa niente, io sono come gli animali, che in l'inverno vado in letargo, e poi la primavera mi sveglio, ok, e niente, solo così, mi è venuta spontanea questa macchina, di mostrare il mio giardino, di mostrare, ecco qua, ok, andiamo un po' ai gattini, vediamo un po' cosa stanno facendo i gattini questa mattina, prima stavano giocando, però come arrivo col telefono, come mi vedono, si fermano, ah, niente, ora si stanno riposando, si sono stancati, ok, ok, e niente, carissimi, e tutto, qui questi fiori si apriranno, e io le chiamo margherite, ma non sono margherite, cioè non so, c'è un nome particolare, che non mi ricordo mai, e io le chiamo tutte margherite, questo tipo così, e niente, questo è il mio vecchio tavolo, che dovrò restaurare prima o poi, che per adesso lo fa, lo dico a fuggiare i fiori, questo è il mio bonsai di olivo, e niente, carissimi, e niente, auguro una buona giornata a tutti, ciao! ciao! Grazie. Grazie.